Ehi, non è che conoscete un modo per disfarsi di una crisi esistenziale? Chiedo per un amico ovviamente, un amico che mi somiglia. Stanno parlando di me! Ciao ragazzi, questa sera alle 9 di sera faremo una blind run su Undertale che non ci ho mai giocato, sarà fichissimo, ma se state guardando questo video nel 2050 troverete la live nella i. Ciao!